Rod E vai che bello di nuovo congelato da Rod Lui è Joseph, il padre di Rod Ma cosa ci fa il padre di Rod? Quando uscirà il gioco? Quando uscirà? Carissimi amici, è arrivato PaninoTube Ci sono qua per darvi una notizia molto importante Sì è vero, oggi doveva cominciare una nuova serie Però questa notizia è così importante Che non posso aspettare altri giorni Devo darvelo subito I giochi come Ice Cream, Evil Nun, Mr. Meat e Granny Hanno la priorità su questo canale Quindi quando c'è una notizia di quei giorni Devo subito darvela appena posso Finalmente è uscita la preregistrazione di Ice Cream 4 Qualcosa di concreto, qualcosa di reale Ma adesso vi devo tutto quanto con calma Mi raccomando, siete qui sotto tantissimi like Se il like che lascerete sarà pari Il gioco associato a voi sarà Ice Cream 1 Se invece il like sarà dispari Il gioco associato sarà Ice Cream 2 E se invece il numero dei like finirà con lo 0 Il gioco associato sarà Ice Cream 3 Fatemi sapere qui sotto nei commenti Quale gioco vi è uscito fuori Iscrivetevi al canale con la campanella Per far parte della PaninoFamily Ma adesso partiamo subito Cominciamo Perché voglio cominciare qua su Ice Cream 3 Perché da qui che partirà tutto quanto Ice Cream 4 si collegherà direttamente a questo terzo capitolo Ma in che modo lo vediamo adesso tutto quanto Ok, direi di fare Ma si mettiamo normale qualunque difficoltà Va bene, partiamo qua E si comincia questa partita Questo diciamo che è proprio il collegamento Che collega la saga di Ice Cream 1, 2, 3 Con il quarto capitolo del gelataio Un quarto capitolo che sarà comunque diverso Rispetto agli altri capitoli che noi abbiamo visto Ed eccoci qua Siamo qua All'interno della casa Ah vero l'interfaccia come sempre Vabbè sentite Giochiamo senza interfaccia Tanto bene o male si riesce a giocare anche senza mettere pulsante Apriamo quella porta Perfetto Chiudiamo la porta Sì vabbè però chiudila bene Che vede bene sta porta Ok, siamo qua Questa è la casa di Jay La casa del personaggio Come ben sappiamo I primi tre capitoli di Ice Cream Sono sempre cominciati all'interno di questa casa Nei primi due Uscivamo direttamente dalla finestra Invece qui nel terzo Finalmente esploriamo la casa di Jay La vediamo tutta quanta C'è più o meno tutta quanta Vediamo soltanto il piano inferiore E il bagno Le altre stanze sono tutte chiose Ma qui nel bagno c'è qualcosa Cioè nel senso Hanno messo sto bagno Sì ok Ma che ci facciamo qua Cosa ci facciamo qua all'interno del bagno Ce ne andiamo in bagno Su Allora apri quella porta Adesso prima di uscire fuori Ci prepariamo il gelato segreto del gelataio E vai che bello Così anche noi Anche Jay Diventerà un chubby boy Ok Mangia qua Mangiate qua sto gelato Preparati tutto quanto Vai Jay Buon appetito Buon appetito di gelatino Che dite Quando uscirà Ice Cream 4 Farò il video mangiando un gelato No forse è meglio di no Se no come faccio a giocare Mentre mangio un gelato Sarebbe difficile Però eccolo là Il bel gelatino Se l'hai mangiato Jay Vai Vai che bello Su su Jay Trasformati nel chubby boy Diventa un chubby boy Utilizzando quella formula segreta Quella formula che ormai Noi abbiamo già visto in diversi giochi Perché diciamo che La prima parte di questa formula si trova su Evil Nan 2 Rod ha ottenuto la stessa formula della suora Ma ora mi sorge una domanda Ma Rod Ha unito tutte quante le formule Creandone una sola Magari ha creato la formula per trasformare in chubby boy E poi ne ha creata una ancora Più terribile Più spaventosa Oh mamma mia Oh mamma mia caro Rod Cos'è combinato Lui ha veramente in mano Una formula che può fare di tutto Cioè se io avessi in mano la formula Che ha Rod Potrei fare praticamente quello che voglio Va bene Usciamo fuori Apriamo questa porta E adesso andiamo dal nostro caro Roddino Ciao Rod caro Ciao che bello Allora che dici Vengo a farmi prendere da te Andiamo direttamente dentro il tuo Rifugio segreto Sì sì dai Vengo nella tua fabbrica Ma qui si vede qualcosa Rimane ancora di là Rodd Rimane sempre lì Qui non abbiamo l'arma di Mike Perché Mike è stato già portato via Diciamo che questa parte qua del gioco È ambientato dopo che Rodd si è già portato via E gli amichetti DJ Lo so Rodd E vai che bello Di nuovo congelato da Rodd E ora andiamo direttamente Verso la fabbrica del gelataio Vai che bello Muoviti Muoviti furgone Ok adesso qua ci saranno i vari titoli di coda Che direi anche di schippare Perché tanto ormai Li abbiamo già visti Chissà quante volte Io comunque spero soltanto una cosa Spero che Ice Cream 4 Esca in italiano Spero che mettono la lingua italiana Come è successo su Yvonne 2 Che sono riusciti a metterlo in italiano Ed eccoci qua Questo qua è il finale segreto Anzi il finale è quello definitivo Che conclude la trilogia di Ice Cream Quindi il terzo capitolo E qua veramente appare uno dei segreti molto importanti Appare Sister Madeline La nostra cara suoretta che noi abbiamo conosciuto tanto bene Ed eccola lì Che si presenta Innanzi a quella croce del camping Che anche qua abbiamo ragionato nel video di ieri La suora è qua Perché vuole evocare Nazareth O perché vuole rivedere Rod Infatti lei dice Finalmente il tempo è finito E fa un sorrisino Proprio quel sorrisino di sfida Chissà cosa vuole fare quella suora Ma soprattutto chissà se comparirà su Ice Cream 4 Va bene diciamo che questo qua È il finale segreto che compare su Ice Cream 3 Ho voluto mostrarvelo Perché da qua ci colleghiamo direttamente al quarto capitolo del gelataio Questa sorta di finale segreto è proprio una sorta di ponte Fa da ponte Un collegamento fra i due giochi Un collegamento fra le due serie Anche perché Ice Cream 4 Non dovrebbe essere l'ultimo capitolo della storia Gli sviluppatori infatti hanno fatto capire Che ci sarà anche dell'altro oltre il quarto capitolo Però non sappiamo se sarà un Ice Cream 5 Oppure una sorta di Evil Nun 3 Ambientato lì dopo Ormai l'abbiamo capito Che qua fanno salti temporali Quella come se nulla fosse Va bene Ma adesso passiamo alle novità Che ci saranno su Ice Cream 4 Ed ecco qua Questa sarà l'icona del gioco Come possiamo vedere qui c'è un Rod Che tiene in mano il 4 L'icona è molto simile a quella che abbiamo visto su Ice Cream 1, 2 e 3 Solo che cambia il numero Anziché tenere 1, 2 e 3 in mano Tiene un 4 Un 4 messo in quel modo E questo fa significare Che appunto sarà il quarto capitolo del gioco Ma adesso tenetevi pronte Perché vi sto per far vedere Una schermata molto molto importante Ecco qua La schermata del Play Store Ice Cream 4 Rod's Factory La fabbrica di Rod Questo ci fa capire una cosa Che il gioco sarà ambientato dentro la fabbrica di Rod Gireremo all'interno della sua fabbrica Scopriremo nuovi segreti Nuovi misteri che saranno dietro questo gelataio Ma in che modo In che modo Dopotutto Jay quando è stato preso e portato via Era un Chubby Boy Quindi il personaggio che ne guideremo Sarà un Jay versione Chubby Boy O dovremo trovare anche una pozione Per poter tornare normali No perché abbiamo visto che Jay versione Chubby Boy Non corre neanche tanto velocemente Se giocassi Ice Cream in difficoltà normale Con Jay versione Chubby E il gelataio mi prende subito In due secondi riesce a raggiungermi Quindi bisogna vedere anche quello Poi come possiamo vedere qua c'è la pre-registrazione Pre-registrati Vi potete pre-registrare Per ottenere subito il gioco E se voi farete la pre-registrazione Riceveremo una chiave segreta Per poter sbloccare Nove oggetti All'interno della fabbrica Chissà se questi oggetti saranno acquistabili Tramito un shop Oppure grazie a queste chiavi segrete Noi possiamo ottenerle subito Questo mi fa anche capire una cosa Appunto Prima ho detto la parola shop Magari ci saranno degli oggetti da sbloccare Oggetti da acquistare Ho tante cose belle Ma speriamo veramente Così rendono il gioco comunque con tante cose nuove Da scoprire Da prendere E da provare Un po' come hanno fatto sui Volna 1 Che hanno messo lo shop E possiamo provare le varie armi È molto bello Avrei preferito uno shop anche sui Volna 2 Ad essere sincero Mi sarebbe piaciuto anche lì E però non l'hanno messo È peccato peccato Qui invece possiamo vedere la storia Quello che ci sarà Entra nella fabbrica di Rod E scopri i suoi segreti Dopo aver salvato i tuoi amici dagli artigli di Rod In diverse occasioni Il malvagio gelataio Li ha presi E questa volta li ha portati nella sua fabbrica Hai deciso di salvarli Hai prodotto il tuo gelato speciale Con gli ingredienti che I tuoi amici avevano raccolto per ingressare E lasciarti prendere da Rod Ecco questo infatti è quello che abbiamo fatto Qui nel finale segreto Noi ci siamo fatti quel gelato Per poter diventare dei chubby boy E farci prendere da Rod Il nostro caro gelataio In questo nuovo capitolo Rod ti porterà nella sua fabbrica Dove scoprirei di più sul suo passato E su quello di suo padre Suo padre Quindi anche il passato di Joseph Wow Esplora le diverse aree della fabbrica Affronti misteriosi aiutanti del gelatoio E scopri molte altre sorprese Inoltre Preregistrati ora E riceverai una chiave segreta Che ti consentirà di sbloccare Un oggetto speciale Quando il gioco verrà rilasciato Quindi la chiave segreta Ecco qua infatti Per avere un oggetto speciale Ma che bello Non vedo l'ora Non vedo l'ora anche di usare Questa chiave segreta Ad essere sincero No no veramente Io non vedo l'ora che esca questo gioco Sia per provarlo Ma anche perché sono curioso Di vedere la mia chiave segreta Che cosa sbloccherà Non vedo l'ora Ma adesso passiamo Alle schermate proprio di gioco Perché ci sono anche nuove schermate del gioco E presto ci collegheremo anche a Joseph Il padre di Rod Schermata numero uno Che compare sul play store Questa qui è sempre la fabbrica di Rod Ma la vediamo dall'esterno Guardatela qua Allora qui possiamo notare meglio Che dove c'è la statua gigante Del gelataio Che poi alla fine è pure un edificio Oltre ad esserci due ponti Che collegano sta statua gigante Con l'intera fabbrica Qui c'è pure un gelato In quel modo Chissà questo gelato Se nasconde qualcosa Se c'è qualcosa lì dentro Però da notare La fabbrica è veramente grande Quindi ho come aspetto Di poter fare grandi esplorazioni All'interno di questo gioco Non come sui ball nan 2 Che hanno messo comunque Un ambiente grande Ma poi comunque piccole zone Da esplorare Qui veramente vorrei vedere Tante cose da vedere Da esplorare E da giocare insieme Schermata numero due Qui invece possiamo vedere Il punto da dove spawniamo Proprio il punto di inizio del gioco E hanno aggiunto Una cosa molto bella Guardate qui dentro chi ci sono Guardate lì dentro chi c'è Charlie Liz E Mike Tutti e tre chiudi All'interno di queste gabbie Poveri amichetti Amichetti cari Io vi salverò Vi porterò verso la libertà Anzi Ci penserà Jay Che guideremo noi Quindi saremo noi A liberarli attraverso Jay Ma vediamo pure Se c'è qualcosa di nuovo Di segreto Che prima non abbiamo visto Allora Qui ci sono dei numeri 1, 2, 3 Però non so che cosa Vanno a significare Sti numeri E possiamo notare Infatti questa porta Qui dice No Che cosa No che cosa Non entrare Non fare niente Ma poi perché c'è questa luce viola Lì dietro Da notare anche che la porta Non sembra neanche chiusa del tutto Sembra socchiusa Cosa ci sarà mai lì dietro Cosa nasconderà il gelataio Dietro quella porta Gelataio Dimmi tutto Racconta tutto quanto Il tuo caro panino No mi sa che non lo vuole raccontare E nel gelataio Non ci vuole dire nulla Perché toccherà a noi Scoprire tutto quanto Saremo noi E svelare il segreto Che si cela Dietro Rod E dietro le sue origini In realtà un po' di origine L'abbiamo scoperto Perché abbiamo visto Rod Che è nato da Evil Nun E da Sister Madeline Attraverso il miracolo di Nasrat L'abbiamo visto Nel finale segreto Di Evil Nun 2 Poi andando avanti qua Ed eccoci qua Questa è una stanza Molto Molto strana Sapete che cosa mi sembra Una sorta di negozietto Dei vari gadget Infatti qua ci sono ad esempio Delle magliette in vendita Esposte Poi da questo lato ci sono Dei fumetti del gelataio Delle riviste del gelataio Va bene Degli scaffali Dei gadget di Rod Sembrano tipo Quei peluci di Rod Che ci sono in vendita Sembrano uno di quelli Ma che bello Ma che bello Bello sto posto Mi piace questa stanza Mi piace veramente tanto Ma guardate qui In lontananza Chi c'è Lo riconoscete Lui è Joseph Il padre di Rod Ma cosa ci fa il padre di Rod Noi sappiamo che Joseph Sullivan E' stato eliminato Attraverso le suore Le suore l'hanno messo fuori uso Ma perché si trova qua Sarà una sagoma Di Joseph Oppure Joseph E' tornato in vita Dopotutto Noi sappiamo bene una cosa Rod possiede La pozione segreta Di Sister Madeline Sister Madeline Sappiamo che lei E' in grado di Resuscitare le persone Attraverso un rituale E attraverso degli animali Infatti ha resuscitato Parte di Elisa Dentro un pollo mutante Gammy Non è altro che La reincarnazione di Elisa All'interno di un pollo Non è che magari Rod E' riuscito Ad amplificare questa formula A migliorarla In modo da riportare Dentro degli esseri Proprio la Persona stessa In vita Poi comunque Qui dentro Noi non sappiamo Che cosa c'è Dentro quella maschera Può pure darsi Che Rod Abbia creato Qualche mostro mutante E' mascherato Da suo padre Potrebbe essere anche quello Mamma mia Non vedo l'ora Di giocarci a questo gioco Non vedo l'ora Però una cosa Molto importante Di questa stanza Sapete cos'è E' questa Sorta di cupola Qui dentro c'è un qualcosa Un oggetto Cosa sarà mai Cosa ci sarà mai Lì dentro Forse lì dentro C'è la pozione segreta Di Rod Custodita all'interno Di una teca Chissà Fatemi sapere Secondo voi Nei commenti Che cosa potrebbe esserci Lì dentro Sono veramente curioso Ma adesso sicuramente Qualcuno mi chiederà Parino Quando uscirà il gioco Quando uscirà Allora Non c'è ancora La data precisa Però possiamo cercare Di scoprirle insieme Adesso che sappiamo La preregistrazione Infatti Quando è uscita La preregistrazione Di Ice Queen 3 Era uscita nel mese di febbraio E nel mese di marzo E' uscito appunto Ice Queen 3 Quando invece è uscita La preregistrazione Per quanto riguarda Evil Nun 2 Era uscita A inizio ottobre Però a inizio dicembre E' uscito poi Il gioco di Evil Nun 2 Non è che sono passati Proprio due mesi precisi Però quasi due mesi Quindi penso che il gioco Uscirà Tra 1 O barra due mesi Quindi o aprile O maggio In uno di questi due mesi Io spero che sca presto Anche perché non vedo l'ora Di giocarci Non vedo l'ora di provarlo Beh nel frattempo Comunque fate la preregistrazione Perché così riceverete Le chiavi Per sbloccare Nuove oggetti Quindi che dire Per il momento Direi di finire Qual video Fatemi sapere Cosa ne pensate Appena avrò Ulteriori notizie Vi farò subito Un nuovo video Per avvisarvi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi raccomando Sparicciate che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo Nel prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Buona giornata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti